Che questo libro in qualche modo, non vedo l'ora che sia finito, perché mi sta ammazzando, mi fruga dentro come gli strumenti di un chirurgo e in realtà per questo, perché mi va a fare delle domande, mi guarda degli occhi con delle domande che mi mettono molto in difficoltà in realtà, domande a cui poi non so rispondere nel libro e non so rispondere io. E in realtà riguarda molto questo, per la prima volta, sono domande che appunto mi frugano dentro da molto tempo e per la prima volta sono forse riuscito a affrontarle se non altro. Tutti mi scridano sempre perché io racconto molto poco alle donne, stavolta ci ho provato un po' di più, sempre dal punto di vista nostro, questo libro, questa storia non esisterebbe senza le donne che anche se in minor misura ci sono dentro, sempre con lo spazio relativo di una persona che è cresciuta con 70 donne intorno per famiglia e quindi diciamo sono gli unici spazi che mi rimangono alla letteratura per stare un po' tra uomini, quindi diciamo sempre una misura ragionevole. Mi sono buttato dentro a questo libro come non mi era forse mai successo e per quattro mesi, che è il tempo che mi c'è voluto per la benedetta prima stesura, mi è scomparso veramente il mondo intorno. Io non solo mi sono divertito, sono stato là dentro, mi sono divertito con loro, credo come mai mi era successo prima, devo ammettere. Tanto è anche un po' spaventoso perché ho ricordi vaghi, io ho iniziato a lavorare sul grosso diciamo a fine ottobre e ho finito a fine febbraio e per tutto l'inverno ho ricordi vaghi, che è anche un po' strano, devo dire anche un po' spaventoso, ogni tanto è come uscire da una sorta di oblio per quattro mesi e che vi devo dire, speriamo serva a qualcosa perché nel frattempo tutto ciò che avevo intorno mi è collassato. Grazie a tutti.